Resana purtroppo è reduce da due commissariamenti, l'ultimo esattamente dopo due anni rispetto alla data delle amministrative. Bisogna dare la garanzia della possibilità di fare una programmazione di lunga gittata che guardi a quelli che sono i problemi seri di Resana. Franco Conte è di nuovo in campo, pronto se sarà necessario a candidarsi a sindaco nel comune Castellano alle urne l'11 giugno. Senatore impegnato in tre commissioni, non sarebbe semplice per lui reggere anche le sorti del comune, ma dice sono pronto a farlo se nessun altro si presenterà. La mia sarebbe un'estrema razio, cioè la disponibilità qualora non ci siano altri. Io attualmente sto lavorando per una candidatura. La mia ipotesi nasce semplicemente dal fatto che sono stato sollecitato da moltissimi cittadini. Fin dal giorno stesso in cui è caduto il sindaco precedente io ho avuto delle sollecitazioni. Ritorna e rimettete in discussione a Resana. L'altro candidato formalmente in corsa in questo momento è l'ex sindaco Loris Mazzorato, già sfiduciato per due volte. Pur di non vederlo eleggere per la terza volta, Conte è dunque disposto a candidarsi? Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di dare una stabilità a Resana. Io credo che chi non l'ha garantita nelle esperienze precedenti al terzo tentativo non lo possa garantire. Bisogna guardare oltre. Da politico navigato, Conte sa, con la sua disponibilità di dare una scossa all'ambiente amministrativo resanese, si dice disposto a fare un passo indietro se si presenterà un candidato adeguato. Un giovane condiviso che abbia delle esperienze amministrative, anche se non dirette all'interno dell'amministrazione, ma per la conoscenza dei problemi, dei temi delle amministrazioni, che abbia delle esperienze. Di contro il tempo stringe. Bisogna correre, non c'è tanto tempo davanti e quindi le candidature devono uscire in tempi brevi. Grazie.